Pensando alle tue soffermi e tutto, nasce in te la cama di praticare, ma sono debole e tante. Perciò a te mi volgo, o Vergine, e ti prego di ottenervi dal sommo bene, la sostanza nell'effettuare il mio desiderio, ed una scilla del tuo divino amore. A ciò che io sprezzi a parte di te, i vari piacere per te, aspettando solitamente ai gaudi, così sia. Gloria al Padre e al Figlio e al Spirito Santo. Il Signore sia con tu. Con l'intercessione di Santa Lucia, mi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Qual è la benedezza che ci avete? Vedervi il capo di mano inside out, perché domica prossima vi vanno delle domande. La gioia del Signore sia a nostra forza, andate in passo. Buona serata a tutti. Grazie.